Contributo gas 50 centesimi, energia 1,20 euro, fitto 1,50 euro. Queste le righe che si possono leggere su alcuni scontrini rilasciati dalla storica pizzeria vomerese Gorizia 1916 di via Bernini, le cui foto stanno facendo il giro del web. Nessuno sbaglio e nessuno scherzo, ma una vera e propria provocazione. Una storia che sembrerebbe avere dell'assurdo e che invece affonda le sue radici in una triste realtà di fatto. Per spiegare l'aumento dei prezzi dei suoi prodotti ai clienti, il titolare dell'esercizio, Salvatore Grasso, che si sarebbe visto recapitare di recente una bolletta di oltre 8.000 euro, ha scelto di ricorrere a questo stratagemma che ha del tragicomico. La provocazione fatta dal collega della storica pizzeria Gorizia vuole lanciare un allarme nel caos della campagna elettorale. Così ha commentato la vicenda Enzo Perrotta, presidente dell'associazione Conf Imprese Italia Napoli. Ecco la sua analisi del duro momento storico vissuto dagli esercizi commerciali partenopei e dalle famiglie. Vedere di evitare la bolletta dell'Enel o di qualsiasi altro gestore in maniera così immediata e che non ti lascia spazio ha una prospettiva di gestione accurata e qualificata per i propri clienti. In quanto che la difficoltà è che mese per mese la levitazione è continua e quindi noi ci troviamo con un difetto di programmazione che alla fine stroncherà le nostre attività. Il vero problema è che questo è un fronte che potrà facilmente aprire anche un'autostrada per il riciclaggio perché ovviamente le aziende che saranno in difficoltà, succede un po' quello che è successo nel calcio con i rinnovi di contratto, alla fine tu regali il cartellino per bloccare le spese e questo sta succedendo anche nel nostro mondo grazie alle sanzioni, alla guerra che mentre ai poveri ucraini li uccide fisicamente, a noi gli spari stanno venendo nel portafogli e quindi questo crea una difficoltà di gestione.